Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. La mia impostazione. La penso così. Siamo stati votati perché questo c'era scritto nel nostro programma. Questo faremo. E la sinistra e il Movimento 5 Stelle faranno opposizione. Capisco ovviamente il punto di vista di Conte sul tema del reddito di cittadinanza, sul bonus del 100%. Si faceva la conferenza stampa, chiedo scusa, la campagna elettorale dicendo grazie a noi avete gratuitamente, gratuitamente, come si dice, sistemato le vostre case. C'è un buco nelle casse dello Stato di 40 miliardi. Gratuitamente chi? Perché lo Stato non fa niente mai di gratuito, sono sempre soldi dei cittadini italiani, no? Per cui capisco che per chi ha un'impostazione diversa, fare scelte che sono giuste, che non sono bonus, che non sono diciamo piccolo cabotaggio, ma sono scelte di visione, possano un piacere. Dopodiché sicuramente la nostra visione non è quella dei nostri avversari, altrimenti staremmo parlando la stessa cosa.